I tarocchi oggi sono noti come strumento di divinazione e forse questo è l'aspetto che li ha diffusi maggiormente noi invece abbiamo voluto seguire un approccio diverso cioè quello di andare a cogliere lo sforzo creativo dei vari artisti che hanno interpretato i tarocchi mettendo in essere delle bellissime collezioni d'arte la nostra colazione quindi è tutta orientata a valorizzare l'aspetto artistico di queste carte che con le immagini che vengono rappresentate rappresentano un po' tutti i vizi e le virtù che oggi l'uomo ha Gli artisti che abbiamo raccolto tra i più espressivi appartenenti a questa collezione sono Dalì, Guttuso, lo stesso Lara e tanti altri autori classici che oggi producono delle bellissime collezioni d'arte grazie a tutti accanto a questa collezione che è comunque una collezione che noi abbiamo raccolto attraverso un impegno nel tempo abbiamo associato anche un invito internazionale a partecipare sul tema dei tarocchi di tutti i male artisti del mondo e a questo invito c'è stata una partecipazione straordinaria perché abbiamo raccolto circa 400 opere provenienti da 20 paesi diversi e realizzate da circa 150 artisti a scoppiare e a scoppiare qui quando vittura al attraverso dan in o il Grazie a tutti. Grazie a tutti.